Ciao, bentornati sul mio canale, oggi mi vedete indossare questo trucco very strong, in realtà Volevo farlo per le feste di Natale, poi ho pensato di chiamarlo trucco dark eyes, dark lips, perché è appunto un trucco very very dark Come il mio amore oggi, che mi sentivo molto punk, yeah Ho detto, perché non fare un trucco dark? E ho indossato questo trucco per una serata in discoteca, mi è piaciuto molto, è piaciuto molto alle mie amiche Però in quell'occasione l'ho indossato con un rossetto nude Tra l'altro si abbina anche alle mie unghie che ho fatto da sola, circa una settimana fa, ve le faccio vedere Nere con i glitter colorati Vi lascio al tutorial, un bacio Inizio vaporizzando dell'acqua termale Avene su tutto il viso dopo averlo idratato E come fondotinta applico il Pro Longwear Foundation della MAC Che è un fondotinta resistente all'acqua e al sudore, nel numero NC25 Che è quindi una nuanza molto olivastra Lo applico con un pennello due fibre, lo sfumo bene su tutto viso e collo Mi fermo qui per la base e vado a riempire le mie sopracciglia con l'eyeliner fluido della MAC Nel colore Deep Down, che è questo marrone opaco Con un pennello angolato vado a dare forma alle mie sopracciglia come faccio in ogni video Passiamo adesso al make up occhi e come primer utilizzo il Softalker Paint Pot della MAC Per eliminare le discromie della palpebra e far durare di più il prodotto Lo applico su tutta la palpebra e anche al di sotto Andiamo a piegare le ciglia e come primo ombretto Prendiamo l'ombretto della palette Naked 2 nel colore Verb Che è un bel argento metallizzato Lo applichiamo nella prima metà della palpebra mobile Sfumandolo leggermente verso l'alto Come secondo ombretto prendiamo Tease Che è un bel color Tortora Lo applichiamo nella piega Sfumandolo sofficemente leggermente verso l'alto Adesso passiamo al nero opaco nel colore Black Out Per avere la forma molto appuntita alla fine degli occhi potete applicare lo scotch Che poi andrete a rimuovere oppure usare un bigliettino da visita Questo è il mio personale bigliettino da visita Quindi lo applico all'estremità nell'angolo esterno e vado ad applicare l'ombretto nero Nella parte esterna sfumandolo leggermente verso l'interno fermandomi alla metà dell'occhio Rimuovo il bigliettino quindi ho un'estremità molto molto definita, netta E vado a sfumare il tutto con un pennello da sfumatura Adesso applico una matita Kajal nera Questa è Feline della MAC Nella rima interna superiore e inferiore dell'occhio E all'attaccatura delle ciglia Adesso invece prendo un correttore cremoso chiaro E vado a creare il punto luce al di sotto delle sopracciglia E a definirle Con il pennello pulito da sfumatura vado a sfumare il tutto insieme all'ombretto E vado a caricare un po' di più il colore nero Nell'angolo interno come punto luce applico i pigmenti vanilla della MAC Potete usare qualsiasi bianco perlato E passiamo ai glitter Sto applicando questi della 2000 Collection Glam Crystal nel colore argento Potete usare qualsiasi glitter eyeliner E lo andiamo ad applicare nella prima metà della palpebra mobile interna E anche al di sotto Sempre fermandoci alla prima metà Applico la matita Kajal anche al di sotto dell'occhio Sto fermandomi a metà occhio E con l'ombretto nero opaco La vado a sfumare verso l'alto Per rendere il tutto più smoky E sfumato Ritorniamo alla base Applico il correttore della MAC Studio Finish Concealer numero NW25 E lo sfumo ben bene su tutta la parte delle occhiaie Applichiamo del mascara sulle ciglia superiori e inferiori E ovviamente delle ciglia finte Che non possono mancare per questo look Sto applicando le Iconic di House of Lashes Un bellissimo brand californiano Di cui ho fatto anche una haul Le applico con della colla Sempre del loro brand Prima dall'angolo esterno E poi vado a incollare l'angolo interno Andiamo a fissare la base Con un po' di cipria Non molto pesante Per non appesantire il posto E facciamo un po' di contouring Con il marrone opaco Della palette della Slick Vado a scolpire E definire le guance Che mi vanno ad allungare il viso E poi applico anche il prodotto Di sotto della mascella Vado a fare un po' di contouring All'asio come sempre Prendo l'altra terra Un po' più chiara e brillantinata La sfumo sulla parte alta delle guance Per uniformare il tutto E adesso vado a illuminare Il ponte del naso L'arco di cupido E la parte alta delle guance Sfumando il tutto verso le tempie Passiamo alle labbra Che vado a definire Con la stessa matita che ho usato Nell'anima interna dell'occhio È il kajal della MAC Nel colore Feline Vado quindi a definire I bordi delle labbra E per le più temerarie A colorare tutte le labbra di nero Ovviamente se non vi piace Questa opzione Potete anche utilizzare Un rossetto nude E il look sarà molto più semplice Visto che le labbra Erano troppo opache Per i miei gusti Ho deciso di usare Gli stessi brillantini In gel Che ho usato sui occhi Solamente al centro delle labbra Per dare un punto luce E questo è il risultato E avete il trucco finito Se il video vi è piaciuto Come sempre Datemi un like Condividetelo sui vostri social Così mi aiutate a farlo girare E se non lo siete già Iscrivetevi al mio canale E in più potete seguirmi Sui altri social Mi trovate su Facebook Twitter Pinterest Instagram E ovviamente YouTube Mi state guardando ora Tutto tutto il nome Di Michela Merone Makeup Grazie per aver guardato Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.